Ehi ciao a tutti player e playerini, oggi siamo qui su Mr.Hop Playhouse 2, il ritorno di Mr.Hop, ma io direi di iniziare! Abbandonate e parla a giocare, pit guy, ti e l'inglese, non ne chiamo tanto d'accordo. Eccoci qua, non fare rumori per evitare i piccoli pericoli. Ma io, ma corri, 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 corri! Noi pericoli siamo a cercare! Curri, curri, curri! Che cazzo è corrida di lunga? Ma che è? Se mi lascia battere i muri, non mi scendiamo! Ma che è questo che scanderne? Ma, ma, ma! Uè, fai, 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 mamma! Fai, 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 corri, corri, corri! Curri, fai, fai, fai! Orgore Mr.Hop, non mi scendiamo! Ma che è? Fai, 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 fai! Ma, ma, ma! Cazzo è successo, chiamate l'esorcista! Esther, we are trying to sleep! Ehi, perché tu non mi lascia? Sei scanderi un mio, non mi lo cozza a me! Che a me potranno essere sti cosi in 2 su 1! Plank... Ma non è l'italiano! Ci hai svegliato un'altra notte! Come sa, di magico, Kiel! Non è solo un sogno, è lo stesso sogno! Sempre lo stesso! Tu sei tua, pazze! Noi! Mamma mia, credo, mi soffrò la nonna Grenia, signor Rottenmeier! Nuovi giocattoli, veniamo questi nuovi giocattoli! Mamma mia, ho portato pure alcuni mani suoi! E mi fanno aperitivo! Per favore, che serve un esorcista! Avrà un giorno per favore, se lo trovi non solo! Siamo a chiamare la mia, Miss Bow! Siamo a chiamare la mia, Mr. Stripes! Che ti chiamare la mia, Esther? Mr. Hop, ovviamente! Come l'ha chiamata? Il ritorno di Mr. Hop! Chi ci puoi seguire adesso? Nascondinolo! Da qua inizio il gioco, nell'orfanatrofiolo! Andiamo a giocare Nascondin! Esther! Nascondinolo! Sto schneri, che ti chiamare la mia! Sto bastardo! Sto bastardo! Sto bastardo! Sto bastardo! Io voglio giocare Nascondinolo! Che gva! Ahchi nasce! Si eh che veneste la mia! Che viewasca! Si, che veni alla mia! Che! Cargo! Che pensi! mi hanno rimasto pure i pazzicchi dove siete? un monedino dove state i bazzardini? ma come si scel? ma molli che fino a fatto puttana che li sei accadrati non ci sei prima bella ma tu mi hai sprando ma tu cazzo non è giusto non è giusto che luca da fu ma ma fangu siamo più a quello siamo più a quello siamo più a quello oh non è giusto non è giusto non è giusto ma come sei come sei ma è giusto andate ma 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 non non Nooo, questa canzone mi dorme! Io mi scendi io! Mamma mia! No, io già faccio! Ah, io sono pure il matron! Fui, fuuuuui! Puzza, ma stai lui! Dei, ha fatto un gol! E io, come se vedi, mi sono un bel bello! Come si fai la cosa? No, non le dino? Non le dino! Come si fai la mia? 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 Ehi, come si fai la mia! Sì, dico. BED! NOW! Come ti sei pianta che ammumilla? I sei, hai sentito che fine hanno fatto? Uuuuuh, voglio passare noi! Nooo, io mi lo faccio! Mannaccia la puttona! Ma è nata una volta che non va buona così! Mamma mia come è brutto! Non lo faccio! Mamma mia! Mamma mia! Uuuuuh, stai avendo fuoco di gas! Sì, che mi serve! Fui, 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 fai! Mamma mia! Mamma mia! Uuuuuh, non me l'ha battezzato! Mamma mia! Mamma mia da vod! Sì, non è che so, ci ti dico a chi è brutto! Mamma mia! 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 озможно! Oh.... non ho capito! Non ho capito! Non ho capito! No Moly è probabilmente in la seconda ... ... ... ma è il cagato? quanto è che sei da qua? si è il cagato? che è che è sada qua? la rispettante il il vero riammi queste ruotze ci c'è qualcosa in mezzo in mezzo Booo Mamma mia mi perseguita, come sei brutto, mi sarò più semplice a casa si danno. Vieti sua se merda! Ma ero tutti e tre! Uuuu ma ero, mamma mia, uuuu non posso passare a noi! Come sei brutto! Ma no, ritorni mistero! No, rituali, che serve l'eserciist? Uuuu, che l'eserci del tonner! Chi sei, ma ho diciamo i crescici! Uuuu, mi sta fuggendo! Uuuu, uuuu, le malacuole! Ma chi tu sape che ti ha mai saputo? Uuuu, siamo nella casa del capitolo uno! Perché qui non c'è la trama in questo capitolo, siamo la non a cadare per il trailer! Mamma mia, com'è brutto! Ehi, tre chiave, sarò tre chiave! Mamma mia, uuuu, mamma mia, che l'eserci del capitolo non mi pigliava! Ehi, ma fangu! Seguimi adesso, non mi dici come ti chiamo, come faccio, te segui compa TikTok! Uuuu, mamma mia! Uuu, grazie a te! O, chi ci ha mai pensi? O, chi ci ha mai pensi? O, chi ci ha mai pensi? Uuuu, grazie a te! O, chi ci ha mai pensi?! A! O, voi 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 voi! Mamma mia! Cuu cu 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 cu! Cuu cu! Mamma mia! Mami! Maa! Uuuu! I'm outside Kill l'uomo a te demoniaga But you'll catch a cold just sitting there Today marks 67 years To this day this remains an active missing Blacklands Manor was once a large orphanage home In the 1930s through to the 1950s Mamma mia Hop ma vini mister plus due Purtroppo non abbiamo sbloccato il finale buono Perché Kill l'uomo costava troppi sord Quindi vi porterò anche tre mamma I'm out of the night fangool